Sta andando abbastanza bene nel senso che sto riscontrando tutte le fasi appunto di cui ci avevano parlato all'inizio Per cui sono passata attraverso la fase umida e adesso ho un picchio di risalita Sicuramente, a parte che è arrivata di colpo, per cui è arrivata proprio da un giorno all'altro Non ho avuto modo di ambientarmi in questa fase, nel senso che è arrivata all'improvviso Ho riscontrato molta stanchezza, debolezza, incapacità di praticare attività fisica Giramenti di testa, pressione bassa E poi sempre da un giorno all'altro, improvvisamente, ho avuto un picchio di energia, di vitalità Di, come dire, di energia Di energia, l'ho proprio riscontrato da un giorno all'altro Il giorno prima stavo pessimamente, malissimo Il giorno dopo, e si sta mantenendo comunque Più forza, più anche mi concentro di più Mentre prima avevo un senso anche un po' di leggerezza mentale, eccetera Adesso sono più attiva, più anche nel lavoro Riesco a perseguire gli obiettivi che mi ero preposta Per cui più concentrata E spererei che mi resta sempre così Sì, sì, dubbiamente sì Attraversi le fasi e lo riscontri Non è una cosa che ti dicono Ma forse accadrà, forse non accadrà Arriva, inaspettatamente, improvvisamente Arriva e arriva anche il beneficio Sono rimasta molto sorpresa prima di tutto I dieci giorni che ho passato, pessimi Però ne vale la pena di tenere duro Oltretutto durante i momenti in cui sono stata anche male Magari ho avuto qualche cefalea, mal di stomaco, eccetera Non ho neanche preso farmaci appunto per non intervenire Per non interferire con gli integratori Quindi ho cercato di resistere E proprio per vedere l'efficacia degli integratori Bene, grazie a voi Grazie a tutti